Gli amministratori dei comuni del comprensorio barcellonese e rappresentanti di associazioni ambientaliste metteranno sotto stretta osservazione la discarica di Mazzarra Sant'Andrea. Questo è emerso nel corso dell'incontro che si è svolto al municipio di Furnari, promosso dal sindaco Felice Germano. Tra gli invitati il sindaco di Mazzarra Sant'Andrea, Carmelo Pietrafitta. Penso che sul problema ambientale tutte le forze sociali, le forze politiche hanno un unico intento che è appunto quella della salvaguardia del territorio. Questa iniziativa secondo me è importante, utile per fare chiarezza, utile per far capire quello che le istituzioni stanno facendo, nel caso specifico il comune di Mazzarra Sant'Andrea con l'importante collaborazione, iniziativa della regione siciliana e abbiamo appunto spiegato lo stato dell'arte. C'era molta confusione. Ci saranno altri incontri, che cosa è emerso di fatto? Di fatto è emerso che ovviamente in modo molto chiaro e trasparente le associazioni ambientaliste e tutti gli attori del territorio, quindi tutti i sindaci che rappresentano ovviamente le comunità, varranno man mano aggiornate rispetto allo stato dell'arte, cioè a quello che si sta facendo per mettere in sicurezza la discarica. Io ieri ho spiegato chiaramente che si stanno percorrendo due vie che sono parallele inizialmente, ma che andranno poi in definitiva a convergere, perché ci sarà un intervento immediato pronto per andare a completare quello che sono i lavori inerenti all'incendio del 25 giugno, perché ancora ci sono delle cose da fare, ancora l'incendio è praticamente in corso. La sistemazione del capping che è stato bruciato, il 30% del capping che è stato bruciato dall'incendio del 25 giugno, verrà sistemata grazie a questo intervento della regione siciliana tramite la proclamazione dello stato di emergenza regionale. Dovrebbe esserci una delibera di giunta regionale che appunto va a proclamare lo stato di emergenza regionale e dota la protezione civile stessa di un importo, non so quantificarlo, non so precisamente quanto, ma che deve essere utile a spegnere questi fuochi, a fare un primo intervento di messa in sicurezza della discarica. Prova ideudico all'altro importante intervento di messa in sicurezza della discarica, quello definitivo. Grazie a tutti.